Noi adesso effettuiamo l'ultimo collegamento della giornata, con noi un'altra ospite d'eccezione, stiamo per collegarci infatti con Cinzia Tedesco, una donna straordinaria che ha fatto della sua arte, quella del jazz, lei è cantante e compositrice, uno strumento anche per favorire o sensibilizzare all'inclusione del mondo donna, infatti anche ambassador del progetto Inclusione Donna, già la vedo nel maxischermo alla mia sinistra. Buongiorno Cinzia, ben trovata. Buongiorno, buongiorno, ben trovati, grazie di questo momento prezioso che mi consente di parlare della mia arte, della mia musica e delle donne. Grazie a te per la disponibilità, ecco, donne, arte, musica, quanta bellezza e perché ce n'è così bisogno. Raccontacelo tu anche attraverso appunto il progetto di cui sei ambassador. Sono ambassador della rete Inclusione Donna che si occupa di fare sintesi tra le istanze di oltre 60 associazioni di donne in tutta Italia, di fare appunto questa sintesi e di offrirsi come interlocutore per le istituzioni in modo da poter portare appunto, rendere visibili alle istituzioni quelle che sono le necessità nel campo del lavoro al femminile e appunto della parità di genere. Io lo faccio attraverso anche la mia musica perché ad esempio sabato 18 maggio ci sarà sul palco della Sala Sinopoli un evento importantissimo, la Sala Sinopoli è nell'auditorio un parco della musica di Roma, un evento perché Inclusione Donna patrocina Mr. Puccini in jazz o qui ecco il progetto vorrei farvelo vedere, speriamo che si veda, eccolo qui, Mr. Puccini in jazz risuonerà sul palco della Sinopoli con l'orchestra femminile del Mediterraneo diretta dal maestro Antonella De Angelis e con il maestro Luca Pirozzi al contrabbasso Pino Iodice al pianoforte e arrangiamenti archi e Pietro Iodice alla batteria tanti musicisti ma soprattutto tante musiciste meravigliose perché la musica interpretata dalle donne ha un sapore, ha un'emozione particolare, ha una sensibilità particolare e credo che il pubblico se ne accorgerà. Proponiamo le aree pucciniane in jazz, in chiave moderna è un disco della Sony ed è la prima tappa di un turno internazionale che mi vedrà cantare successivamente ad Oslo, in Brasile per cinque concerti, in Bulgaria, a Berlino e poi a Washington per ritirare il premio Eccellenza Italiana 2024. Inclusione Donna è con me, io porto le istanze delle musiciste, delle artiste che devono essere rappresentate, che devono essere sostenute da bandi ovviamente ministeriali che in qualche modo riconoscano l'importanza della partecipazione femminile ai progetti e un'altra istanza sicuramente quella legata alla rappresentanza all'interno delle fondazioni culturali dove le donne ancora sono un po' poche. Ti facciamo veramente tanti complimenti sinceri per la tua energia, il tuo entusiasmo, la passione che ci metti nelle cose che fai, nel tuo lavoro perché è vibrante. Ecco la domanda che ti volevo fare in parte a questa domanda stavi già rispondendo e si collega al fatto che nel mondo dell'arte, ahi noi, ancora oggi la dimensione del lavoro è un po' così compressa, tante volte soprattutto per le figure femminili, per cui da questo punto di vista è molto prezioso il tuo impegno. Sì, purtroppo veniamo da una società, da una cultura che ha sempre un po' penalizzato le donne, sono stati fatti tantissimi passi avanti ma tanto ancora deve essere fatto. Noi come inclusione donna sensibilizziamo le istituzioni perché solo le istituzioni possono dare quelle risposte che noi tutte attendiamo. E alle giovani dico non mollate mai, non cedete ai compromessi, lavorate sui contenuti, preparatevi, siate forti, siate con noi perché la rete di inclusione donna sostiene i giovani. In tutti i comparti lavorativi, quindi fate anche affidamento su di noi, cercateci sui social, cercateci su LinkedIn, su Facebook, siamo presenti, il nostro board, perché la rete inclusione donna è stata fondata da Sila Mocchi e Carolina Gianardi, abbiamo una grandissima responsabile della comunicazione che è Stefania Mancini, quindi abbiamo delle donne di riferimento molto forti e io come ambassador faccio la mia parte. Ecco, squadra che vince non si cambia, per cui vi facciamo tanti cari auguri per il prezioso lavoro che state portando avanti e invitiamo quanti potessero a seguire anche questo bellissimo progetto del Puccini in Jazz. Sì, Mr. Puccini in Jazz all'Auditorium Parco della Musica, sabato 18 maggio e portiamo Puccini in tutto il mondo, ma un Puccini moderno, un Puccini giovane, un Puccini frizzante, pieno di groove latino, di swing, un Puccini sorprendente ma che non tradisce la tradizione, che non tradisce la bellezza della nostra tradizione che ci fa grandi nel mondo. Grazie Cinzia, Cinzia tedesco, tanta energia di cui potete appunto giovarvi partecipando a questa bellissima iniziativa, bellissimo appuntamento. Cinzia, io ti ringrazio di cuore per averci dato, condiviso la tua carica stamattina con noi e ti seguiremo con attenzione e con affetto e magari ci ritroveremo anche prossimamente per fare il punto della situazione. Grazie, è un momento prezioso, grazie a tutti voi. Grazie a te, grazie a te davvero e allora buon lavoro a te come musicista e come ambassador del progetto Inclusione Donna e a tutte le tue straordinarie colleghe. Noi ora ci formiamo soltanto per qualche istante e poi ritorniamo insieme per la parte finale di Just Today.